Grazie a tutti. 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 dell'atto di carta, non avrà un atto originale, perché l'atto originale è quello che si crea in Word e poi si trasforma in PDF, ma avrà una fotocopia. Quindi il processo telematico è qualcosa dove dobbiamo imparare anche banalmente come si fa l'atto, che voglio dire è come se da che sei un professor, ti dicono scusa torna alla scuola elementare a imparare come si fanno, no, quale è laico l'accento e quella senza accento, le pene sostitutive. Se noi oggi andiamo a discutere di un patteggiamento con il dottor Fusco e magari andiamo a discutere di una bancarotta e noi diciamo generiche, prevalenti, due anni con la condizionale, però come si fa a stare nei due anni, avvocato, non c'è un esercimento, non c'è una cosa. Fusco magari è bravissimo, ma magari un suo collega mi dirà facciamo due e quattro e poi farà l'affidamento e io penserò beh l'alternativa è fare due e quattro e poi farà l'affidamento. Mentre invece no, perché le sanzioni penali e le pene sostitutive sono pene a tutti gli effetti che sono applicabili fin da adesso e quindi ovviamente nella liberazione controllata, detenzione domiciliare, sapere che la detenzione domiciliare non vuol dire stare tutti i giorni a casa ma fino a 12 ore e quindi fanno una valutazione. Ma io al mio cliente, quando dico che è un problema dei cittadini, è meglio che lo lasci libero in attesa di un affidamento e quindi nella condizione di libero sospeso, che è la condizione della persona che sta per 4, 5, 6 anni senza sapere se poi gli daranno l'affidamento in prova, quindi da libero sospeso appunto e potrebbe andare in carcere oppure meglio che gli faccia dare una pena sostitutiva subito. Questa per un avvocato è una scelta urgente, non voglio dire solo importante perché questo lo capiscono tutti che è importante, ma è una scelta urgente, è una scelta di oggi o domani. Ho parlato troppo, mi fermo, grazie. Un relatore, sì, che arriverà a breve immagino, sì. Allora, prima di introdurre i nostri relatori, anche se direi che qualche osservazione è già stata puntualmente, come dire, ci è stata proposta, farei qualche considerazione diciamo così introduttiva, carattere introduttiva ve la fa un'accademica pura, quindi come dire, fatemi scontare la circostanza che io non applico direttamente le regole che oggi qui discutiamo o solo come punti di riferimento, come potete immaginare essendo una costituzionalista, i principi costituzionali. E quindi mi serve innanzitutto di fare qualche considerazione di natura più politica in riferimento a questa riforma, una brevissima considerazione su quelli che sono i principi ispiratori che stanno nel disegno che è stato approvato e poi magari un inciso finale per riservarmi eventualmente rispetto agli interventi che verranno proposti qualche chiosa qua e là, come ai moderatori generalmente viene lasciato fare. Allora, dirò, queste sono cose senz'altro note, ma che su una riforma di questo tipo a mio avviso pesano in maniera abbastanza decisiva. Questa è una riforma che si inserisce su alcuni disegni di legge che erano stati già precedentemente presentati, quindi dalla, diciamo così, dagli cosiddetti disegni di legge buona fede, quindi partiamo in un certo contesto politico e arrivano poi ad essere approvati in un diverso contesto politico con maggioranze naturalmente diverse, tanto è vero che discutiamo appunto di una riforma cartabia. Anche qui consentitemi perché questo a mio avviso rileva, buongiorno, ben arrivato, è significativo che queste riforme vengano identificate con i nomi dei ministri, ovviamente ministri della giustizia di riferimento, perché sono fortemente contrassegnate dalle maggioranze che sono state contingenti e necessarie per l'approvazione. Ricordo anche, perché anche questo è significativo, che pur essendo partiti, diciamo così, in un momento lontano, queste riforme sono state approvate per, sia alla Camera che al Senato, con lo strumento del voto di fiducia, il che significa quindi con una netta, diciamo così, accelerazione o comunque con una forzatura rispetto alla discussione parlamentare. E se si leggono, come dire, la razza ispiratrice di questo progetto di riforma, si nota benissimo che l'elemento che la contraddistingue sono il recupero dei tempi per l'esercizio della funzione giurisdizionale. Cioè a dire, esplicitamente scritto, che in una logica di, diciamo così, di assegnazione di alcune risorse che ci sono state fatte a livello europeo, era necessario poi nell'attuazione nel cosiddetto piano nazionale di ripresa e resilienza, utilizzare questi fondi anche per un recupero che risponde a logica, diciamo così, di principi costituzionali, perché, come dire, i tempi di esercizio della funzione giurisdizionale sono naturalmente coessenziali alla funzione giurisdizionale e naturalmente il rispetto di questi tempi fa sì che si possa in qualche maniera rimanere nell'alveo, diciamo, dei principi costituzionali. Questo da un lato. È chiaro però che su questo disegno di legge, a mio avviso, molto, su questa legge poi approvata, molto ha inciso la circostanza, la caratterizzazione, perché tenete conto che questa è una grande riforma della giustizia, che non riguarda solo il processo penale, a Costituzione invariata, perché ovviamente trattasi di legge ordinaria, quindi gli articoli della Costituzione non sono, il titolo quarto, parte seconda della Costituzione è rimasto intatto. Quindi, da un lato, dicevo, questa idea del recupero dei tempi anche in ragione delle quantità di, come dire, di condanne che il nostro ordinamento ha subito. Mi sono ripresa alcuni numeri che sono abbastanza imbarazzanti. Noi abbiamo subito da parte della, in violazione articolo 6 della CEDU, sulla lunghezza dei nostri processi, 1202 condanne rispetto a un ordinamento come quello della Turchia, che ne ha subite 608, quindi meno della metà. Quindi questo la dice lunga su questo problema. Ricorderete però che non si è guardato solo a un problema di organizzazione dell'esercizio della funzione, perché questa riforma tocca anche l'organo di autogoverno, cosiddetto organo di autogoverno della magistratura. Quindi si è, come dire, veramente guardato a tutto tondo, con secondo me questo obiettivo molto incalzante, molto forte, che ha inciso poi su alcune scelte, a mio avviso. Io non darò ancora giudizi di merito, naturalmente, ma chi mi ha preceduto già qualche, come dire, giustamente sottolineatura sull'idea che siamo già pronti a rivedere questa riforma l'ha fatta, perché pare che appunto nella sua prima applicazione qualche elemento di fragilità e debolezza la indichi. Quindi da un lato questa necessità, recupero dei tempi della giustizia, se, come io spesso mi capita di insegnare nelle mie aule, se l'esercizio della funzione giurisdizionale, in qualche modo, se l'organizzazione è servente al ruolo dell'individuo, è chiaro che la funzione giurisdizionale copre una buona fascia di questa, come dire, di questa idea forte. Ora che tutto questo stia in questa riforma, naturalmente io lo farò dire a le persone che qui sono veramente un coro di autorevolezza, come dire, abbastanza significative, per cui da questo punto di vista io mi taccio. Mi riservo eventualmente di riprendere, magari qualche considerazione, non so se qui verrà toccato o meno, il problema della giustizia riparativa, perché qui qualcosa da un punto di vista dell'attuazione della Costituzione di nuovo c'è, so che è del tutto ancora umbrianale, si stanno aspettando provvedimenti in qualche modo di attuazione. So però che da un punto di vista proprio anche culturale, a mio avviso, cominciare a scalfire questa, come dire, idea, come dire, carcerocentrica, cioè della pena come necessariamente detenzione di questo Paese, a mio avviso, in qualche modo ne ha un po' bisogno. Mi taccio, perché altrimenti i moderatori diventano troppo lunghi, quindi mi pare che nella nostra scaletta tocchi immediatamente al dottor Giovanni Canzio, primo Presidente merito della Corte di Cassazione, che ascolterò con grande piacere. Grazie. Grazie, grazie per l'invito. Direi che dobbiamo essere molto grati al Centro Studi per aver avviato questa profonda riflessione sulle varie leggi di riforma cartabbia. Ce n'è davvero bisogno. E' anche ringraziarlo per aver deciso di trattare questo tema intitolando appunto la riforma cartabbia in un clima a cui ha fatto cenno poco fa il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano che non esito a definire un clima ideologicamente acceso di controriforme. Le controriforme, lo si sa, per chi conosce la storia, hanno un sapore conservativo, hanno un sapore autoritario, a differenza delle riforme e soprattutto se poi sono controriforme propugnate da un atteggiamento, da un clima generale di tipo populista. Di tutto abbiamo bisogno purché di un ripristino rinvigorito addirittura del populismo giudiziario che tanti danni ha fatto e continua a fare a questo Paese. Quindi io credo nella riforma cartabbia, lo dico subito in premessa, così scombriamo il terreno. Proverò a fare un tipo di operazione verità per dire perché la riforma cartabbia è una riforma liberale, è una riforma di sistema, è una riforma organica, è una riforma che è complessa, che richiede molto di più di quanto è stato fatto finora, lo diceva prima il primo interlocutore, lo studio. È mancato lo studio, se non da parte di coloro che hanno partecipato ai lavori della riforma. Da quelli che poi sono i protagonisti che devono far camminare la riforma, cioè innanzitutto i magistrati hanno il dovere di studiare, gli avvocati, anche la stessa accademia. Si è atteso appunto l'ennesimo rinvio per dire ma insomma qui si parte, il 31 dicembre, probabilmente forse è arrivato il momento di cominciare a studiare. Non così da parte di chi è stato molto più attento e lo dico perché, non perché è qui presente, ma perché è storicamente un dato, come Tribunale Cortappello di Milano, Procura di Milano, che sono partiti molto prima di tanti altri e quindi sono in grado di affrontare con più serenità quella che è una riforma di sistema, in quanto riforma di sistema è una riforma complessa. È una riforma larga, una riforma che apparentemente di 99 articoli, che sono già tanti, il decreto legislativo 150-2022, ma dentro quei 99 articoli sono almeno altre 300-350 disposizioni modificate. Quindi è un codice. un mese scorso un incontro a Bologna, avevo una tavola rotonda con il rappresentante sui temi della giustizia della Commissione Europea, che ha definito la riforma cartabbia the biggest reform in Europe. Io gli ho chiesto, senti, ma dopo quando sono intervenuto, ho detto io la penso come te, però mi devi dire la verità, è the biggest perché appunto c'ha 99 articoli, 350-400 disposizioni. Ho detto no, perché è la riforma più importante che è stata mai fatta in Europa al servizio della qualità della giustizia dei cittadini. Parola testuale. E perché questo? Perché questo clima che sulla base di 3-4 episodi incresciosi, che saranno sicuramente oggetto di disposizioni correttive, che si fa correzioni, lo prevede la stessa legge di riforma, un biennio per i provvedimenti correttivi. Perché non ci dice la verità questo clima che sta montando in modo ideologico e quasi sopraffattorio, ma non ce la farà? Vi spiegherò anche le ragioni per cui questo clima non potrà vincere il clima della controriforma. Perché si vuole disconoscere che la giustizia italiana versava e versa tuttora in una crisi di effettività e di autorevolezza assolutamente indubitabile agli occhi di chi non vive in Italia, agli occhi europei. E questo significa crisi di fiducia dei cittadini di confronto della giustizia. Lo si può negare che si versi in questa crisi, solo che in Europa sono molto più preoccupati di noi, perché la crisi di fiducia dei cittadini nei confronto della giustizia non significa soltanto, come si vuole far credere, difficoltà nello sviluppo dell'economia, dell'industria, dei commerci, dei traffici. Questa Europa commerciale è che ci impone di intervenire a tutela di questi interessi, bieghi interessi di tipo patrimoniale. No, perché la crisi nella fiducia della giustizia viene vista come una crisi di fiducia nello Stato di diritto. Che significa democrazia? Che significa statuto dei cittadini europei rispetto a tante altre parti del mondo in cui sappiamo benissimo il sistema, che non è il migliore in assoluto, ma per oggi ne conosciamo altri, il sistema democratico è messo fortemente in discussione. Perché se si leggono attentamente i justice scoreboard del 2020, 2021, 2022 della Unione Europea, dove sono indicati i parametri per i quali uno Stato di diritto può dirsi efficiente e funzionante, cioè appunto la durata dei procedimenti, le pendenze, l'arretrato, il giusto processo, la qualità, l'indipendenza e la magistratura, si capisce che si parla della dimensione etica e democratica della giustizia. E cioè della sostenibilità di quello che a livello europeo la Commissione europea ha istituito già da qualche anno, noi facciamo finta che non esiste, che è l'European rule of law mechanism, un meccanismo che va a verificare il funzionamento della giustizia inteso come funzionamento della rule of law, dello Stato di diritto. E tutti i report di questi organismi internazionali, anche gli italiani ci sono, ma gli italiani non vengono ascoltati. Faccio riferimento alla SPG, a livello europeo, alla Commissione europea, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, il Doing Business, per non citarne altri, hanno evidenziato nel corso di questi anni l'arretramento competitivo dei livelli di servizio, della qualità della giustizia italiana rispetto ai sistemi giudiziali di tutti gli altri paesi europei. indicando carenze specifiche, che mi spiace ripeterlo, non sono soltanto sul tempo, pure è importante, perché il cittadino e gli avvocati lo sanno bene, qualcosa ve l'ha detto poco fa il Presidente, cosa significa il tempo, le scelte relativamente al tempo della giustizia, ma sul piano dell'organizzazione dei servizi. Quindi sia a carico dello Stato, scarsità delle risorse, mancata o tardiva digitalizzazione e informatizzazione dei servizi rispetto ad altri paesi europei, la logistica, che per molti uffici è scadente, ma anche la ineguatezza, il termine testuale è l'inadeguatezza della gestione degli uffici da parte di coloro che dovrebbero gestire, in particolare la magistratura, mi sembra indubitabile questo, e gli organismi che ne sono a capo. La imprevedibilità delle decisioni. E di più questi organismi internazionali hanno evidenziato le sensibili differenze di performance sul territorio, il che pure rileva, perché non è vero che tutto è scadente e inadeguato e lento, ma se si fanno le medie questo è il risultato, ma se si va a fare l'affondo sulle medie si avverte che sul territorio vi sono sensibili differenze, e non dico soltanto tra nord e sud, perché per esempio Milano e Palermo stanno ai primi posti della graduatoria, mentre altre zone del nord, faccio riferimento in particolare a Venezia e Bologna, e altre del sud, sono molto indietro per quanto riguarda i tempi, la decodezza dei servizi, lo smaltimento dell'arretrato, quindi pure tra uffici analoghi per quanto riguarda le risorse, i flussi, la criminalità. Non ho il tempo di sviluppare tutti i dati che vorrei sviluppare e che riguardano soprattutto i giudizi di impugnazione, ne parlerò domani, la Cassazione farà un incontro molto importante sui giudizi di impugnazione domani, proprio per definire meglio questa situazione, però qualcosa devo dirlo, perché altrimenti noi parliamo di un passato a cui si vorrebbe tornare, e a cui non si tornerà di questo nessuno certo, che rappresenta il peggio, perché se un dato internazionale, quello che si chiama il disposition time, cioè il tempo della durata di processo da quanto viene scritto a quanto viene elaborato, nel nostro giudizio di appello è pari a 906 giorni in media. Vi dico, otto volte superiore a quello del più arretrato dei paesi europei. In media 906 giorni significa che si beneficia dei tempi rapidissimi della Corsa d'Appello di Milano da parte di corti che impiegano fino a 4-5 anni per un giudizio di appello, Corsa d'Appello di Roma e Corsa d'Appello di Napoli, dove sono stabilizzati, e non so per quale ragione oggi ce ne accorgiamo, io non lo sapevo, sono rimasto stupito quando l'ho scoperto, si annidano il 40% di tutti i giudizi di appello nazionale e il 50% di tutti quelli che superano il bienio, il fatidico bienio di durata in giudizio di appello. Il che vuol dire che ci sono delle corti, tra cui non ve ne parlo perché ovviamente la mia corte, sono stato lì quasi vent'anni, la corte di Cassazione, con straordinaria fatica, decide i ricorsi entro 160-180 giorni e sta ai vertici della giustizia europea, pur ricevendo 50.000 ricorsi l'anno, che vuol dire che da vent'anni la corte di Cassazione, con una fatica che voi potete immaginare dei magistrati, si è organizzata. Allora, questa che è una lunga premessa, ma forse è il centro di quello che volevo dirvi perché volevo parlarvi proprio di quelle che sono la genesi e le linee fondamentali che hanno ispirato la riforma Cartabbia, ha determinato il progetto riformatore che dovrebbe cercare di risolvere queste disfunzioni profonde che non fanno onore al nostro Paese. E qui si è innestato, direi fortunatamente, non l'avremmo mai fatto altrimenti, perché mi ricordo che tutti questi anni qualsiasi riforma si concludeva con la clausola di invarianza finanziaria, e cioè fatela pure, però io non vi do un euro, quindi potete immaginare, grazie all'intervento del Next Generation EU e del PNRR, imponenti risorse sono state destinate, e non una tantum, attenzione questa è un'altra favoletta da smentire, a regime, cioè per la prima volta noi abbiamo un progetto di sostenibilità finanziaria nel corso degli anni, perché le implementazioni finanziarie, le risorse, in particolare il Tribunale lo sa benissimo, l'ufficio per il processo, che è stato organizzato in modo splendido alla Corte d'Appello del Tribunale di Milano, cioè centinaia e centinaia, migliaia di nuovi addetti all'ufficio del processo che sono entrati e che auspicabilmente, ma quasi certamente, rimarranno a regime. Ebbene, le due grandi novità instaurate dal PNRR per quanto riguarda la giustizia, ce ne sono più di una, ma me ne racconto solo due, è che per la prima volta una riforma della giustizia viene definita una riforma multilivello, multilivello, e cioè si è capito che una riforma che toccasse soltanto il rito, e cioè la procedura, non sarebbe stata in grado di risolvere e di sollevare l'esorto della giustizia italiana, per quei vari profili, quei deficit di cui abbiamo parlato. E quindi si è capito che occorreva intervenire coerentemente e sistematicamente, ecco perché dire di sistema, tanto sull'arrito e quindi le novità imponenti che ci sono a livello di procedura, quanto sul terreno della organizzazione, perché se il deficit è un deficit organizzativo, occorreva intervenire sull'organizzazione, implementando le risorse per il telematico, l'informatizzazione, gli addetti al servizio, il numero dei magistrati, il numero dei cancellieri. E terzo sul terreno della formazione, vedete i programmi della scuola superiore della magistratura e del CNF e delle varie scuole forense, come si sono moltiplicati gli sforzi di tipo formativo, perché è una riforma che impone sapere, impone cultura, anche per coglierne quelle criticità che sicuramente ci sono, qualsiasi riforma presenta, oltre a quella che io ritengo tante luci, anche ombre e criticità. Ma per intervenire sulle criticità bisogna leggere la riforma sotto il suo complesso e capire come funziona. E quindi il PNRR è stata, con questa scelta di fondo, cioè complessità di fattori e quella che i francesi chiamano la durabilità di una riforma, cioè la sostenibilità nel tempo, con i finanziamenti adeguati a stabilizzare nel tempo la riforma, sono stata la chiave di volta. Il secondo aspetto è il monitoraggio, preteso dalla Commissione Europea, è in corso un monitoraggio semestrale, continuous, preteso dalla Commissione Europea, da parte del Ministero della Giustizia, anche attraverso un apposito comitato, non ha cominciato ancora a funzionare adeguatamente, ma che è stato previsto dallo stesso PNRR, di monitoraggio per apportare quegli elementi correttivi che sicuramente saranno necessari apportare con una visione critica, ma critica intelligentemente critica negli aspetti che meritano una riforma. Il quadro d'assieme, mi limito al quadro d'assieme perché poi la nostra coordinatrice mi dirà il tempo che ho a disposizione. Il quadro d'assieme sta a indicare obiettivo, semplificazione e razionalizzazione laddove andava semplificato e razionalizzato il sistema. Scansioni temporali più stringenti, quindi eliminare tutto ciò che è superfluo, che è inutile, deconcessionare la domanda per far sì che finisca una volta per tutto questo rapporto squilibrato tra domanda e offerta, perché se la domanda è superiore all'offerta, poi non ci si può lamentare se l'obbligatorietà dell'azione penale diventa una, non dico discrezionalità, ma una scelta di fondo tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare, perché è uno scarto tra domanda e offerta di giustizia. E quindi questo spiega l'ampliamento per esempio delle fattispecie perseguibili a querela. Cioè è un paese che invoca da 50 anni una mitica depenalizzazione che nessuno farà mai, perché anche il più audace legislatore non oserà mai fare una depenalizzazione seria, ma tenderà a aumentare il numero dei reati. Le soluzioni erano due. La prima, che pure era auspicabile, perché ogni grande riforma è stata accompagnata da quella, l'amministia. Ecco, immaginate perfino la grande riforma del codice di giustizia penale dell'89, la riforma vassale è stata accompagnata dall'amministia, perché occorre scomprare il tamolo quando si comincia, ma giacché politicamente è insostenibile questa tesi, pur a qualcuno avendo avuto il coraggio di dirlo che quella era una strada. L'altra era continuare sul terreno della prescrizione occulta, cioè un numero elevatissimo di prescrizioni che copre ciò che non è amministiabile e che nasconde ciò che in realtà poi non è oggetto di azione verale obbligatoria. Oppure una coraggiosa operazione di sfoltimento delle ipotesi di perseguibilità d'ufficio, laddove erano molto più pregnanti gli interessi della parte privata a essere tutelata in un processo penale e quindi riservando alla parte privata la volontà o meno di esprimere questa, appunto, la volontà che si svolgesse un processo. Con i limiti che abbiamo visto e che sicuramente meritano una correzione, anche se mi permetto di osservare che il prevedere la perseguibilità d'ufficio indiscriminatamente solo perché vi è l'aggravante mafiosa, non dimentichiamo che quell'aggravante non è stata ancora accertata da nessun giudice, che viene postulata solo dal pubblico ministero nella sua ipotesi di accusa, in un momento molto iniziale e che potrebbe cadere nel corso del processo e che però ha sostenuto, ha sostenuto semmai l'arresto, ha sostenuto la misura cautelare, ha sostenuto l'azione penale, l'ufficio e così via. Ma questo ci porta su un altro terreno, ci porta sul terreno uno dei terreni prescelti dal modello cartabia di riequilibrare i rapporti finora squilibrati tra pubblico ministero e giudici nelle indagini preliminari e ci riporta sul terreno ovviamente poi dell'etica professionale come dimostrata dalla stragrande maggioranza dei magistrati italiani e cioè che non ci si inventi un'aggravante mafiosa solo per consentire una persegubilità di ufficio in un caso in cui clamorosamente semmai non c'è. Ecco, la stragrande maggioranza dei magistrati italiani questo non lo fa. E quindi uno degli aspetti, le indagini hanno visto una sorta di riequilibrio di quello che era sembrato una situazione di eccessiva prevalenza del motore del processo, cioè le indagini preliminari come davvero quindi l'asse del processo rispetto a quello che era l'intento della riforma del processo penale Bassaldi e cioè il dibattimento, il contraddittorio, l'accertamento della verità, l'accertamento dei fatti, la difesa, l'accusa, nell'indagini preliminari tutto questo non c'è. E se le indagini preliminari diventano l'asse nevralgico del processo vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Quindi andava spostato questo asse, inserendo quelle che più volte ho chiamato finestre di giurisdizione, limitate finestre di giurisdizione, cioè il giudice appare dentro le indagini laddove vi è bisogno di un intervento che abbia il terzo, il giudice, a difesa di quello che è la sistematicità e la regolarità e la legalità del procedere. E mi limito a dire due cose sul punto. Il vaglio della chiarezza e della precisione dell'imputazione. Tutti, avvocati, magistrati, sanno benissimo che il cuore pulsante di un processo è l'imputazione. È lì che si forma il tema probantum, il tema decidentum, le strategie difensive e così via. E spesso l'imputazione non è né chiara né precisa, il che determina non solo il fallimento dei riti alternativi, che di fronte a una prospettiva così confusa io non aderisco a un rito alternativo, ma determina poi confusione nel seguito del processo. Il prevedere che un giudice possa invitare il pubblico ministero a rendere chiare e precise l'imputazione mi sembra doveroso, anche perché esisteva già la norma che imponeva al pubblico ministero di fare l'imputazione in modo chiaro e preciso. Ma non c'era la sanzione, non c'era nessuno che lo controllasse, se non alla fine il giudice di battimento quando ormai la frittata era fatta, dopo anni semmai. oppure il controllo sul raccordo preciso tra imputazione e fatti che emergono dagli elementi probatori. Perché in questo modo si seleziona il processo davvero utile, il processo quello corrispondente effettivamente ai fatti, quello sui quali si posizionano le strategie della difesa, dell'accusa e infine le decisioni del giudice, il tema probando, il tema decidentum. E questo lo si può ottenere solo con le finestre di giurisdizione, limitate ma significative, nelle indagini e con la creazione di un momento di controllo preliminare da parte del giudice, udienza preliminare o udienza predibattimentale per iati a citazione diretta, in cui tutto questo deve avvenire nel confronto tra le parti, confronto all'esito del quale le parti potranno effettivamente definire la propria posizione, per esempio per la scelta auspicabile di un vito alternativo, in particolare il patteggiamento che ha trovato spazi più ampi rispetto al passato. oppure un rinvio a giudizio, ma a questo punto un rinvio a giudizio che non sia in funzione di un processo inutile e superfluo, ma di un processo che miri a ottenere un'affermazione di responsabilità dell'imputato perché altrimenti è inutile farlo da parte dell'accusa e quindi con un vaglio più penetrante da parte del giudice che è simile al vaglio che il giudice fa quando adotta una misura coercitiva, e cioè la qualificata ragionevole probabilità di colpevolezza dell'imputato, che non deve scandalizzare perché chi ha scelto il rito accusatorio sa che questo è il sistema che c'è in qualsiasi paese al mondo che abbia scelto il rito accusatorio, e cioè il criterio della ragionevole probabilità di colpevolezza o di condanna dell'imputato, il che comporta selezione, deflazione e diminuzione dei giudizi di impugnazione, dei quali dirò soltanto poche cose perché credo di stare vicino, ecco, quindi dico pochissime cose, la scelta dei giudizi di impugnazione, la scelta di fondo, nel tempo di approfondire questo tema, anche questo in termini direi di maggiore razionalità del sistema, ma il cuore sta a monte, sta prima del giudizio di impugnazione, infatti non vi dirò nulla della improcedibilità, cioè perché il successo o meno della strategia della riforma cartabbia è tutto in quello che vi ho detto prima, se funziona quello funzioneranno meglio anche i giudizi di impugnazione e si svolgerà con maggiore attenzione la razionalizzazione del giudizio di impugnazione attraverso il cosiddetto giudizio camerale e non un giudizio a un'audienza di trattazione pubblica, a meno che, ecco, cioè con un contraddittorio scritto, quindi contraddittorio cartolare, uno scambio di memorie, così via, a meno che non sia il difensore, quindi io ho apprezzato molto gli interventi sia delle Camere Penali sia dell'Avvocatura, che sulle impugnazioni non hanno in realtà lamentato un venir meno delle garanzie difensive, del contraddittorio, perché si passa prevalentemente a un Camerale non partecipato e quindi al contraddittorio scritto, al contraddittorio cartolare, perché si è sperimentato nel periodo della pandemia che questo sistema non ha determinato caduta reale delle garanzie, ma un maggiore efficienza e razionalizzazione dei giudizi di impugnazione e d'altra parte si è riservata alla volontà, veramente un diritto protestativo, dell'Avvocato di chiedere che si discuta il processo. Ovviamente anche qui il richiamo è all'etica professionale, alla formazione professionale, alle linee di confronto tra Avvocatura e Magistratura perché ciò avvenga nel migliore dei modi. Mi tocca concludere, mi semmai nel dibattito di dire qualche altra cosa, dicendo che non voglio assolutamente, non pretendo affatto di aver convinto nessuno, ma di avervi solo espresso le mie profonde convinzioni, che senza ostilità preconcette di tipo ideologico, pregiudizi di vario genere, questa è una riforma che meriterebbe di essere studiata, affrontata nella sua complessità da tutti i protagonisti del processo, innanzitutto da magistrati e avvocati, ma anche l'Accademia e partecipi attraverso i suoi tirocinanti, attraverso gli addetti al processo, le sue formazioni e così via, perché sono cambiati in realtà nella cassetta del mestiere di questi protagonisti, sono cambiati degli arnesi e quando si cambiano gli arnesi occorre anche cambiare il modo di lavorare. Insomma, il mio appello è all'open mind di tutti quanti. Grazie Presidente Canzio, grazie oltre che per naturalmente la puntualità e la lucidità nel disegnare questo impianto di questa riforma, ma anche per l'immissione un po' di fiducia rispetto alle scelte che sono state operate. Allora, passo ora la parola al dottore Eugenio Fusco, procuratore del Tribunale. Grazie per l'invito. Al Tribunale, alla Procura di Milano, direi, nel Palazzo di Giustizia di Milano ci sono state già molte riunioni, sia all'interno dei singoli uffici, sia tra gli uffici. Perché anche se da parte di qualcuno, per esempio da parte mia, c'è critica rispetto a questa riforma, perché ci sono tante norme che funzionano bene e altre che, a mio modesto avviso, non funzionano così bene, la critica è comunque costruttiva. Su questo non si discute. È ovvio che noi ci siamo da subito attrezzati per applicare la riforma. Però anche io vorrei, come dire, rispondere, ma solo per fare qualche piccola battuta. È vero che l'Italia ha subito moltissime condanne, quelle che la professoressa ci ha ricordato, praticamente più del doppio di quelle della Turchia. È verissimo che in Turchia i procedimenti sono estremamente rapidi, ma il tenore delle condanne io credo che sia molto diverso. Ora, il tema che deve essere messo subito sul tappeto, parlo ovviamente per il penale, non per il civile, è che comunque comunque la giurisdizione richiede tempi difficilmente comprimibili. Tutto il resto è qualcosa di diverso dalla giurisdizione. Io sono un, per chi mi conosce, e qui ci sono molti avvocati e anche ufficiali della Guardia di Finanza, io sono un negoziatore. Nel processo Anton Veneto ho fatto 64 patteggiamenti. Quindi, e ho fatto 64 patteggiamenti perché ero il primo a rendersi conto che senza quei patteggiamenti il processo non sarebbe potuto andare avanti. Però, quella è altra giurisdizione. il processo poi in realtà è durato, è durato tanto e fortunatamente è arrivato ad un soffio dalla prescrizione. Perché tutti i processi di una certa complessità arrivano, tranne quelli di mafia, tranne gli omicidi, arrivano davanti alla corte di Cassazione quando la clessidra sta già facendo il conto alla rovescia. E poi vorrei dire un'altra cosa. Il decimo rapporto del CPE, che dovrebbe essere del 2020, mette in evidenza che il procedimento penale, il procedimento penale italiano, ha una lunghezza inaccettabile. Però mette anche in evidenza che il numero dei magistrati in Italia è nettamente inferiore in proporzione a quello degli altri paesi. Non lo dico io, eh? È il rapporto del CPE. Poi voglio anche parlare della procura, perché in fondo io parlo a titolo personale, ma faccio parte della procura. Beh, non abbiamo avuto l'ufficio del processo. E allora il procuratore, quando è arrivato, ha commissionato all'ufficio studi, di cui io sono responsabile, un lavoro. L'impatto, l'impatto organizzativo della riforma cartabbia sulla procura. È un impatto tremendo, perché noi non abbiamo i cancellieri sufficienti a svolgere tutti quegli, e gli avvocati lo sanno, eh? Perché ci sono diversi. Non abbiamo i cancellieri. Quindi questa è una riforma apparentemente non a costo zero, ma per la procura è a costo negativo, perché non solo non abbiamo avuto risorse, ma ne abbiamo perse. Siamo sottorganico come sostituti, in questo momento siamo sottorganico anche come aggiunti, ma soprattutto siamo sottorganico come personale amministrativo. Ora, questo è un dato fondamentale. Io poi sono estremamente convinto che la credibilità, e sono d'accordissimo con il presidente Canzio, la credibilità del sistema giustizia è strettamente dipendente dai tempi nei quali si riesce a rendere giustizia al cittadino, sia nel civile, sia nel penale. Però ho l'impressione che soprattutto nel penale sia mancata nella fase di elaborazione di questa legge il punto di vista del pubblico ministero. Io non so se, anche perché, la legge delega è del 27 settembre 2021. Ci ha ricordato la professoressa che è una legge che si innesta su precedenti disegni di legge, buona fede. Il disegno è totalmente opposto, perché lì stavamo parlando, si parlava della spazza corrotti e tutta la riforma, quella sì era una riforma forse reazionaria, una riforma durissima dal punto di vista sia del diritto sostanziale che del diritto processuale. I decreti legislativi, il decreto legislativo 10 ottobre 2022 numero 150 è arrivato ad un anno e un mese. Beh, io credo che se una riforma è una riforma così grande, perché lo è? Tocca tanti, tocca il, ma soprattutto il codice di procedura penale, perché poi mi soffermerò anch'io un attimo sulla querela, che all'inizio è stato uno dei temi che maggiormente ha dato problemi a noi procura, mancava una norma transitoria. Ma già senza la norma transitoria noi eravamo comunque pronti a partire, avevamo già, ci eravamo incontrati procura e tribunale, avevamo già individuato le linee, non sarebbe cambiato nulla. Però un anno scarso per una riforma davvero imponente che ha toccato completamente il codice di procedura penale, in tutte le sue parti, ma proprio nella filosofia. E se qui noi stiamo parlando di principi ispiratori, è cambiato tutto, perché ha ragione il presidente Nardo quando dice, ma qui bisogna ragionare se dobbiamo dare una pena sostitutiva o se invece dobbiamo dobbiamo così passare alla pena alternativa, cioè pensare all'affidamento in prova al servizio sociale o a qualcosa di diverso. E dobbiamo evidentemente studiare a fondo questa normativa. Si potrebbe parlare anche della sanzione pecuniaria, che è una sanzione molto giusta, ma che liberamente ci vorrà praticamente l'intelligenza artificiale per stabilire qual è la pena da applicare. Forse non si è compreso che per stabilire quali sono i parametri da applicare a seconda del tenore di vita del condannato si dovrà forse fare un'indagine sull'indagine. Ma tutto questo, ripeto, almeno a Milano si supererà senza altro. Ci vorrà un po' di tempo, ma è anche a quelli che continuano a chiedere i moduli più aggiornati, i moduli più, dico, che comunque nell'arco di cinque, sei mesi tutto andrà a regime. Da parte nostra non c'è assolutamente, come dire, il desiderio di cambiare qualcosa. Querela. Beh, una strada si doveva prendere. Io ho parlato tante volte con Gianluigi Gatta, cioè, qual era la strada? La depenalizzazione non può essere un tratto di penna. La depenalizzazione, tra l'altro, deve comunque rispondere non ad un criterio di pura deflazione, ma deve corrispondere ad un riscontrato, riscontrabile mutamento della coscienza sociale. Cioè non è che si può prendere e cancellare una norma. Quindi, quando non puoi agire sulla leva della depenalizzazione, non puoi agire sulla leva dell'amnistia, che sarebbe stata probabilmente in un caso del genere la soluzione più logica, più corretta, a me è sembrata una buona idea quella di ragionare sulla condizione di procedibilità. Anche perché, non dimentichiamocelo, che il dibattimento, soprattutto il dibattimento davanti al giudice monocratico, è totalmente ingolfato. Totalmente. Quindi è inutile pensare che tutti i furti possano essere perseguiti, molti non vengono perseguiti comunque. Non sono... Non credo che sia sufficiente. Io non credo che sia sufficiente. Perché mi è capitato, ovviamente, in questo periodo, qualsiasi rivista ha una monografica sulla riforma cartabbia. Tanto che io adesso comincio anche a confondermi se quello che ha scritto Tuglio Padovani, l'ho letto su Guida al Diritto o sul nuovo archivio di procedura penale o da qualche altra parte. Però, provocatoriamente, il professor Padovani ha detto se si vuole davvero incidere, bisogna depenalizzare il testo unico 309-90. Ma chi ne ha il coraggio? Io personalmente... Io personalmente no. C'è qualche mio collega che nel passato lo ha anche suggerito. Però quello potrebbe essere un sistema di depenalizzazione e di deflazione di tutto il sistema. Perché il sistema, per chi opera nella giustizia come me, è ingolfato da tutte le parti. Se io, anziché prenderlo all'origine, e cioè prendendo per origine il processo, quindi quando già è stata esercitata l'azione penale, per chi non è neanche la vera proprio origine che viene ancora prima, e io quando arrivo alla fine mi rendo conto che le carceri sono assolutamente sovrappollate. giustizia riparativa e anche, direi, svuotamento delle carceri attraverso pene sostitutive e quant'altro. Anche lì ci vorrà del tempo. Anche lì ci vorrà del tempo. Ma se noi abbiamo uno stock di detenuti che è superiore alle nostre risorse, dobbiamo immettere ulteriori processi? Non so. Quello che a me sembra è che ancora una volta, noi ovviamente applichiamo le norme che sono state promulgate, ma a me sembra che ancora una volta è mancata una visione di sistema. Perché la visione di sistema doveva considerare tutto quello che riguarda il mondo giustizia. è stato un fatto riferimento ai liberi sospesi. Milano sono, mi ricordo se 5.000 o 6.000, non ho i dati aggiornati, sono 5.000 o 6.000 persone che hanno ricevuto l'ordine di carcerazione, che però è sospeso perché la pena... ma stiamo parlando di una situazione che oramai non è più sostenibile, perché giustamente è un libero sospeso se poi si trova a dover finire in carcere, ma ci finisce quando una persona totalmente diversa. E quindi il sistema è completamente in difficoltà, completamente. La riforma cartabbia in realtà punta, io però qui devo dire, Gianni, è chiaro che dall'estero la vedono bene, non la conosciamo noi, la può conoscere il commissario europeo. Il commissario europeo vede solo il risultato. Il risultato che tra l'altro si prefigge, che è il risultato di raggiungere in 5 anni una riduzione del 25% della durata del procedimento, a fronte di risorse che vengono questa volta non solo promesse, ma date, ma non a tutti, perché a noi non sono state date. Noi non ne abbiamo avute. E il vero problema della Procura della Repubblica è il problema anche dei giudici e anche degli avvocati, perché comunque è la Procura della Repubblica che esercitando l'azione penale porta il caso davanti al giudice e di quel caso si dovrà occupare l'avvocato. Io qui invece vedo che con tutti gli adempimenti che sono previsti ulteriormente, le finestre di giustizia, il controllo incrociato anche con la Procura Generale, per l'amore edio, si fa tutto, però noi ci troviamo di fronte a richieste di misura cautelare pendenti e a quel punto siamo con il 415 bis e la richiesta di misura cautelare pendenti. Non ne sono tantissime, abbiamo fatto una riunione anche con il Presidente dell'Ufficio GIP, però ce ne sono. E in questi casi cosa dobbiamo fare? In questi casi noi dobbiamo rivolgerci alla Procura Generale e la Procura Generale può autorizzare sulla base di due criteri fissati dalla norma, l'incolumità, ma è un caso residuale, la pendenza di misure cautelare. Cosa dobbiamo mandare alla Procura Generale per dimostrare che c'è necessità e cosa dobbiamo fare con... ci sono sicuramente... E tra l'altro questo caso come verrà risolto? A Milano, a Palermo? Forse in modo diverso. Io ho parlato, sono stato recentemente a Palermo con il Procuratore Generale, la Lia Sala, che diceva ma figuriamoci, io non volevo proprio avere queste misure cautelari negli uffici. Sono misure delicatissime. Oggi c'è stato l'arresto, siamo tutti contenti che ci troviamo in una giornata che è comunque una giornata importante perché è stato arrestato un latitante da trent'anni e voglio vedere se bisognava fare delle proroghe su delle misure. Mi sembra che comunque ci siano delle storature che a mio modo di vedere vengono per il fatto che forse non sia ascoltato un pubblico mistero nell'elaborazione di questa riforma. Chiudo con un tema che non sviluppo. La tutela delle vittime. Si dovrebbe parlare anche della... La tutela delle vittime. Io penso che la soluzione che è stata adottata della estensione della procedibilità era l'unica strada percorribile e quindi già l'ho detto penso che non si poteva fare diversamente. Tuttavia, e indipendentemente dai casi che hanno avuto gli onori della cronaca penso che ci sia un po' una forzatura rispetto alla vittima perché comunque ci troviamo la vittima viene a trovarsi nella condizione che anche nei reati non a cooperazione della vittima perché se io penso alla truffa ovviamente è reato a cooperazione della vittima e la vittima deve assolutamente proporre la querida ma ci sono certe ipotesi certe ipotesi di furto che forse come dire ci sta un po' stretta ma non mi scandalizzo l'ho detto prima e come dire lo confermo anche ora mi domando se la tutela rafforzata della vittima che si è ricercata attraverso le comunicazioni un rafforzamento delle comunicazioni 90 bis ma disseminato poi in tante norme del codice del codice di procedura penale sia un correttivo adeguato questo non lo penso non lo penso perché io non credo molto in questa serie di comunicazioni talvolta anche incomprensibili come quella per esempio che ha l'articolo 408 in cui bisogna dare avviso alla persona offesa che ha richiesto di essere avvisato in caso di archiviazione anche della giustizia riparativa e bisogna però nello stesso tempo anche avvisare avvisare l'indagato beh e se io avviso l'indagato all'indagato cosa devo fare mi devo consentire di accedere al fascicolo ci sono anche qui per inseguire una tutela attraverso le comunicazioni e poi le comunicazioni non sono mai a costo zero sulle notifiche saltano i processi prevedere una comunicazione in più non è mai e come inserire una mina in più nel processo un ultimo un ultimissimo tema perché a me per chi mi conosce questo è un tema che sta particolarmente a cuore ho detto in esordio che l'esercizio della giudiziazione richiede tempi difficilmente comprimibili e nel nostro sistema non vengono sanzionate le condotte unfair in tutti gli altri sistemi più o meno questo è molto importante lo dico e sono impopolare davanti agli avvocati ma quante volte ci siamo trovati di fronte a liste testi di 200 250 persone totalmente a me è capitato a me è capitato probabilmente a chi è qui dentro mai a me è capitato il processo Parmalat è durato 100 udienze ma non 100 udienze per dire che è durato tanto 100 udienze ora in questi processi dalla che durata difficilmente comprimibile e io non so quanti se ne faranno in futuro perché se tutto deve essere contenuto in tempi più come dire ristretti sarà difficile fare dei procedimenti per tante imputazioni e nei confronti di tanti imputati ma soprattutto e qui così mi avvia la conclusione sarà ancora più complicato tenere dentro questa complessa macchina anche il processo nei confronti dell'ente che a me sta molto a cuore già adesso lo abbiamo quasi sempre spacchettato non esiste più il simultaneo processus ente e persona fisica e il rischio è quello che si dovrà evidentemente trovare per l'ente delle soluzioni diverse e l'insuccesso dei riti alternativi io credo sia comprensibile a tutti da tutti perché se i tempi della giurisdizione sono difficilmente comprimibili è chiaro che ci sarà una fuga dai riti alternativi perché si sa che comunque il processo durerà tanto e allora ancora una volta la soluzione è avere delle risorse adeguate faccio un esempio e concludo più che un esempio un riferimento allora cosa noi vorremmo fare per poter rendere il processo davvero più rapido parlo da pubblico ministero gli studi forse si dovranno da questo punto di vista anche a loro volta un po' di organizzare ma il processo deve avere una serie di udienze molto ravvicinate molto ravvicinate per avere un calendario stretto e il calendario stretto alla fine automaticamente cancella anche quelle condotte quelle condotte anferra alle quali io prima facevo riferimento ecco un procedimento di questo tipo cosa richiede richiede strumenti e risorse io per per il momento ho fatto già alcuni sit e nei sit che ho fatto ho scritto che non avevamo la strumentazione uguale abbiamo predisposto dei verbali per la polizia esterna però la situazione è questa quindi la situazione degli uffici poi si vede il risultato ma la situazione degli uffici per chi li frequenta è questa carenza di personale carenza di mezzi e se vogliamo fare processi anche celermente carenza di magistrati grazie grazie anche al dottore Eugenio Fusco per la come dire lettura diciamo così in qualche modo critica qualche chiaroscuro che ha voluto mettere in evidenza nella costruence sì sì costruence senz'altro ci sarebbero forse anche da riprendere rimettendo anche un po' in campo alcune osservazioni che sono state lette dai due relatori in maniera devo dire non contrapposta ma insomma con qualche sfumatura diversa perché ora mi permetto scusate mi permetto solo di dire che io capisco io vengo da una città Brescia che voglio dire non è proprio la più piccola la seconda città della Lombardia un vaccino industriale di una certa rilevanza di Rigo un dipartimento di giurisprudenza quindi ho vissuto per esempio l'ufficio del processo in prima battuta perché con i presidenti tribunali corti d'appello ci siamo seduti a un tavolo ho spinto i nostri studenti i nostri giovani laureati ad inserirsi quindi ho accavalcato con entusiasmo questa idea capisco però allo stesso tempo quando mi si dice appunto che ci sono alcuni uffici giudiziari che vanno ad una certa velocità e che quindi di rimando significa che ci sono altri uffici giudiziari che vanno ad velocità diverse che qui si scontano delle problematiche e che non tutto può essere naturalmente misurato in termini di tempi io su questo sono assolutamente d'accordo che ci siano dei tempi incomprimibili conosco bene il tema perché lo penso per le assemblee rappresentative mi spavento e l'ho introdotto in questa logica mi spavento quando mi dicono che la logica per cui viene fatta una riforma è per comprimere i tempi perché ci sono dei tempi naturali che riguardano ovviamente anche la funzione giurisdizionale dico però che appunto ho questa sensazione cioè misurare come dire non dico la bontà di una riforma perché è naturalmente tutto troppo presto ma il funzionamento quindi la macchina messa in moto da questa riforma su alcuni uffici giudiziari e non su altri significa già che qualche problema lo scontiamo il problema delle risorse è evidentemente un problema che conosciamo bene sul quale c'è crisi della giustizia e c'è come ci diceva il dottor Canzio all'inizio c'è la crisi dello stato di diritto che è niente di peggio ci possiamo augurare crisi di un sistema democratico per tutto quello che questo a ruota in qualche modo mette in moto per cui è evidente che qui ci giochiamo molto della credibilità che questo nostro fragile paese in qualche modo sta scontando mi taccio dottor Fabio Roia tocca a lei presidente del tribunale di Milano con piacere grazie grazie professoressa grazie dell'invito grazie al centro studi di Borgogna di aver organizzato questo credo uno dei primi momenti di riflessione a livello così organico non di dettaglio dello studio della riforma anch'io farò delle riflessioni di carattere generale organizzativo partendo da una consideranza anzi da una battuta oggi ho verificato sul portale del consiglio superiore della magistratura se era revocabile ancora la domanda per presidente tribunale di Milano e ho verificato che effettivamente si può ancora revocare perché no perché non è ancora l'ordine del giorno la trattazione della pratica questo perché adesso questa questa battuta mi serve per no grazie grazie sei troppo affettuoso questo perché in questa esperienza di di cariato di facenza funzione che sta diventando troppo lunga perché il presidente Vicky è andato in pensione il primo maggio del 2022 ho constatato come sia veramente complessa la gestione di una macchina che complessivamente prevede circa 1200 1300 unità da gestire ricomprendendoci qualcuno lo dimentica anche l'ufficio del giudice di pace di Milano e di Rò che è praticamente quello di Milano equivalente ad un medio tribunale per presenza di giudici di pace e di personale amministrativo in due articolazioni dove sono venuti a mancare per motivi diversi dirigenti amministrativi quindi la legge dice che in assenza di dirigente amministrativo dirigente giudiziario deve svolgere anche quelle funzioni dico questo perché secondo me la vera riforma costituzionale da fare sarebbe la modifica dell'articolo 110 cioè l'organizzazione dei servizi da parte del Ministero della Giustizia perché così come è strutturata questa riforma il sistema non regge cerco di spiegarmi meglio ho fatto l'esempio passando da una battuta della gestione di queste risorse che sono gestione di risorse sul piano come dire burocratico funzionale ma senza nessuna capacità di spesa perché la capacità di spesa per dettato costituzionale spetta il Ministero della Giustizia il quale doveva attuare ma non l'ha ancora fatto è una delle prime riforme che doveva attuare il decentramento in capo alle competenze che attualmente sono solo nella sede romana dovevano essere create delle strutture decentrate in particolare per il Nord Italia il Sud Italia il Centro Italia questa riforma che è stata come dire varata non è ancora stata riempita ci vorranno ancora due o tre anni con la conseguenza per chi non è del mestiere che se si blocca un collegamento un collegamento via Teams noi dobbiamo fare una telefonata aprire un ticket viene assegnato un numero di ticket e poi il centro unico che si occupa di questi guai chiama una persona che sta al piano terra del Palazzo di Giustizia di Milano cioè per chiamare un addetto che dovrebbe essere prontamente reperibile bisogna fare questi passaggi non funziona perché in altri paesi a un certo punto è stata fatta una riflessione di questo tipo no si dice tanto di volere dirigenti manager dirigenti giudiziari che sappiano non solo di giurisdizione e di regole di diritto ma anche di organizzazione di risorse correttamente magari affiancato da figure realmente manageriali e in altri sistemi si è pensato allora di devolvere ai presidenti delle corti addirittura i presidenti di tribunali anche con una previsione di spese e un'assunzione di responsabilità ovviamente di natura contabile le risorse che servono per far funzionare la macchina perché evidentemente lasciamo stare tutto il problema della logistica dell'edilizia giudiziaria della manutenzione degli edifici eccetera 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 concentriamoci diciamo su tutto quello che è funzionale all'esercizio della giurisdizione anche per esempio per avviare il processo penale telematico è evidente che un dirigente debba avere la possibilità di intervenire sul piano della spendita immediata delle risorse tutto questo quest'oggi purtroppo non avviene aggiungo senza nessun tono polemico che poi ogni volta che si insedia un ministro soprattutto se questo ministro espressioni di una diversa maggioranza si assiste ad un fenomeno relativamente curioso dico io del cosiddetto spoil system a livello di direzioni apicali ministeriali con la conseguenza che chi ha avviato per esempio quei percorsi virtuosi in materia di PNRR di finanziamento con le università adesso è stato come dire rimosso comunque è tornato in ruolo e dobbiamo riavviare da zero l'interlocuzione con persone che normalmente sono magistrati che poco sanno comunque devono avere il tempo di apprendere tutto quello che è stato fatto prima da parte dei loro colleghi allora questo per dire un po' le difficoltà in cui una riforma e qui concordo con quanto ha detto il presidente Canzio che attenzione non è una mini riforma questa è una riforma epocale è una riforma epocale che impatta in maniera pesante su un sistema giudiziario che è fragile proprio per la carenza di risorse non voglio tediarvi ma in Italia oggi mancano 1800 magistrati fino al 2024 noi non avremo nuovi ingressi in magistratura le procedure concorsuali qui una parte della riforma cartabia secondo me ha avuto un grande merito perché ha reintrodotto il concorso non più di secondo grado ma di immediato accesso per i neolaureati in giurisprudenza adesso la laurea magistrale rispetto a quando l'ho fatto io che durava era magistrale ma aveva una durata inferiore quindi noi avremo una previsione di voti di organici in magistratura molto molto importante stando al tribunale di Milano non voglio tediarvi ma voglio darvi come dire condividere approfitto anche della presenza del presidente Nardo per condividere dei numeri oggi su 290 giudici abbiamo in servizio 249 giudici per stare al penale sul nel dibattimento abbiamo 68 giudici su 77 nella sezione GIPGUB che per quello che vi dirò probabilmente dovrà essere potenziata abbiamo 32 giudici su 41 abbiamo una scopertura di personale amministrativo del 30% con un'ulteriore perversione del sistema perché giustamente il personale amministrativo è stato riqualificato e quindi sono diventati quasi tutti funzionari i funzionari oggi in seguito al contratto collettivo nazionale non possono o perlomeno possono andare ad assistere nell'udienza penale il giudice soltanto qualora non ci siano altre figure minori tipo cancellieri o assistenti giudiziari che lo possano fare e cancellieri giudiziari e assistenti giudiziari noi abbiamo al Tribunale Milano una scopertura che si attesta al 50% e qui si innesta un'altra perversione che quegli addetti all'ufficio del processo che sono stati assunti con fondi europei per svolgere un ruolo di assistenza al giudice e per implementare quindi la definizione degli affari giudiziari e quindi per intervenire sui diversi obiettivi di disposition time indici di ricambio indici di smaltimento eccetera eccetera devono essere quantomeno in misura maggiore una sorta di braccio di ferro che continuiamo continuamente a svolgere c'è il rischio che vengano utilizzati in sostituzione di tutto quel personale amministrativo che manca e che quindi sostanzialmente vengano a fare l'attività di cancelliere di udienza quindi con la sottrazione a quel ruolo a cui aveva pensato il legislatore acquisendo i fondi europei di assistenza effettiva al giudice nell'esplitamento dell'attività giudiziaria allora in questa cornice si inserisce una riforma che secondo me è una riforma positiva dal punto di vista della filosofia perché ha questi obiettivi o questi tratti comuni ha uno spirito deflattivo ha un profilo di razionalizzazione dell'esercizio dell'azione penale attraverso il mutamento della regola di giudizio e su questo secondo me è il punto filosofico fondamentale della riforma ricerca un diritto penale minimo ha come obiettivo una decarcerizzazione che era necessaria nel nostro paese e mira ad un processo penale telematico attenzione però in una società dove i dati sul possesso del domicilio digitale di ciascuno di noi sono fra i più bassi d'Europa domicilio digitale significa semplicemente il possesso di un privato di una PEC da parte di un privato allora vedete come queste grandi regole questi grandi impatti si innestano su un sistema che è un po' in asfissia da un punto di vista perché noi abbiamo parlato degli organici dei magistrati degli organici del personale amministrativo però c'è anche un problema di organici per esempio nel personale di polizia e giudiziari pensate a tutta l'attività della effettiva notifica per mettere a conoscenza primaria l'atto primo deve presupporre una conoscenza effettiva e qui si interviene su un principio adottato dalla Corte Europea cioè non si può fare un processo se non c'è un'effettiva conoscenza da parte del soggetto che deve essere processato presuppone un'attività di polizia giudiziaria di ricerca non solo nella prima fase ma poi successivamente laddove vengono pronunciate sentenze nei confronti degli imputati che non sono stati a metti a conoscenza del processo che evidentemente comporta anche qui un'implementazione di risorse oppure si è puntato attraverso l'aumento della messa alla prova per reati fino a 4 anni sull'istituto che ha dato notevole esiti positivi almeno nell'esperienza di Milano proprio quella dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ma qui si presuppone che ci sia una struttura che è stata individuata nell'ufficio esecuzione penale esterno l'UEPE che ha competenza che abbia delle dotazioni molto ma molto importanti quando oggi l'UEPE con i numeri che noi abbiamo che sono sicuramente sensibilmente inferiori rispetto a quelli che avremo in prospettiva fa già in difficoltà per prevedere dei programmi per chi lo chiede per l'individuazione degli enti con cui continuiamo a fare convenzioni dove svolgere i lavori di pubblica utilità e per fare le relazioni conclusive o intermedie sull'andamento dell'istituto la messa alla prova allora pensate che l'aumento della possibilità di accedere a questo istituto deve prevedere necessariamente un aumento dell'organico dell'ente a cui è demandato la progettazione l'osservazione il giudizio finale sul percorso trattamentale alternativo al carcere allora il punto fondamentale e lo dico al mio amico Eugenio Fusco è però il cambiamento della regola di giudizio e la razionalizzazione dell'esercizio dell'azione penale perché noi abbiamo fatto uno studio con la procura della Repubblica abbiamo peraltro istituito un tavolo di lavoro che adesso convocheremo a breve anche col consiglio dell'ordine degli avvocati e con la camera penale per vedere gli effetti impattanti della riforma partendo da un dato il sistema ma direi anche trovate voi l'ordine del fattore forse prima di tutto il diritto alla presunzione di indoncenza del soggetto non può accettare che in talune fattispecie di reato soprattutto a citazione diretta si arrivi ad un 40% di assoluzione questo è una violazione del diritto alla presunzione di innocenza di un soggetto che per x mesi x anni rimane imputato con tutte le conseguenze del caso nonché una disfunzione del sistema perché viene chiesto ad un sistema di intervenire per la repressione di un reato che in talune fattispecie e per talune situazioni nel 40% dei casi si porta ad una sentenza assolutoria allora la regola di giudizio che voi sapete l'esercizio di azione penale oggi la si fa in ragione di una previsione di condanna che sia ragionevole comporta una trasformazione del fattore di cultura giuridica in almeno tre soggetti il primo è il pubblico ministero ovviamente il secondo sono i giudici del controllo che è il giudice dell'archiviazione qualora il pubblico ministero si determini a chiedere l'archiviazione il giudice dell'udienza preliminare qualora si determini a fare una richiesta di rinvio a giudizio il che presuppone lo dico in maniera molto friendly che il giudice dell'udienza preliminare non sia più un giudice come dire dell'automatismo ma un giudice della lettura e della comprensione del materiale probatorio il che presuppone che magari vengano fatte più udienze il che presuppone che quell'ufficio venga adeguatamente rinforzato ma questo potrà essere fatto spostando delle risorse dal dibattimento quando vedremo che questa regola di giudizio verrà effettivamente applicata e quindi a dibattimento andranno molti meno processi rispetto a quelli che vanno adesso e quindi non si può fare oggi ma bisogna avere la capacità di studiare come viene assorbita e metabolizzata questa nuova regola di giudizio per trasferire risorse dal settore del giudizio dibattimentale e eventualmente al settore e poi c'è e questa è una sfida nuova il giudice dell'udienza predibattimentale cioè il giudice che riceve reati che sono stati ampliati a citazione diretta e che in qualche modo viene chiamato ed è un'esperienza nuova a effettuare l'attività tipica del giudice dell'udienza preliminare GIPGUP e sarà un giudice del dibattimento anche qui se si potesse come dire gestire in maniera più libera le risorse io metterei giudici che hanno maggiore esperienza a fare questa attività di filtro ma questo non può essere fatto per le nostre regole tabellari perché c'è un principio di precostituzione del giudice naturale quindi non posso dire non so ai presidenti di sezione fate voi questa attività di filtro che avete la capacità e 10 15 20 anni magari di esperienza dibattimentale per capire che cosa può sfociare in una sentenza con un giudizio di ragionevole previsioni di condanna oppure no bisogna rispettare correttamente il progetto di organizzazione tabellare il principio di giudizio di rispetto del giudice naturale è chiaro che questo nuovo fattore culturale e che secondo me è questo il punto di rivoluzione dice due cose che l'azione penale va esercitata soltanto a determinate condizioni che probabilmente bisognerà condividere laddove ciò è possibile per talune fattispecie di reato come dire un vestito probatorio minimo non sperando nello sviluppo divattimentale senza in maniera molto laica c'erano procedimenti per bancarotte che andavano a giudizio solo con la relazione del curatore fallimentare allora questo oggi è possibile oppure come dire bisogna fare una sforza ulteriore nell'attività pre-processuale per poi andare a giudizio avendo una ragionevole previsione di condanno credo che la riforma chieda questo chieda questo e credo che questo sia l'aspetto realmente nuovo innovativo rivoluzionario che però presuppone da parte di tutti noi una cultura diversa perché il procuratore Fusco faceva riferimento applicando la nuova regola di giudizio bisognerà anche monitorare la reazione delle persone offese ai quali per esempio il pubblico ministero notificherà la richiesta di archiviazione e vedere quale sarà la reazione delle persone offese e dei loro difensori ovviamente il difensore io non lo cito ma è un soggetto fondamentale è un soggetto del processo che deve apportare questa nuova cultura in un rapporto che io immagino non sia molto semplice con il proprio assistito per definizione una volta a un corso di avvocati ho detto che ai magistrati dovrebbe essere insegnato come l'avvocato ha difficoltà o come si gestisce il proprio cliente perché poi noi certe dinamiche di gestione del rapporto professionale difensore cliente sia esso persona offesa sia esso indagato imputato non le conosciamo e quindi abbiamo difficoltà poi a entrare in questo rapporto sarebbe molto utile per noi arrivare a comprendere la difficoltà di relazione ebbene anche questo sarà un problema perché ovviamente ci sarà una reazione della persona offesa che dovrà metabolizzare attraverso il suo difensore questa nuova regola di giudizio l'altro giorno eravamo a un convegno in materia di reati orientati da violenza di genere e malgrado noi noi abbiamo una corte di cassazione che ormai stabilmente dice che è sufficiente la dichiarazione della persona offesa testimone in reati orientati dal genere violenza sessuale maltrattamenti atti persecutori per poter arrivare ad una sentenza di condanna io mi chiedo se malgrado questa giurisprudenza granitica della suprema corte poi se un pubblico ministero abbia solo la dichiarazione la querela della persona offesa come dovesse applicare questa regola di giudizio e quale sarebbe la reazione della persona offesa del difensore questo per fare un'idea se ancora grazie professoressa alcuni alcuni altri spunti allora se il giudice dell'udienza preliminare deve fare questa attività di studio profondo della richiesta di rinvio giudizio se deve fare una richiesta deve valutare molto bene le richieste di archiviazione se attecchiranno i riti abbreviati perché qui c'è un effetto premiale molto forte in caso di assenza di impugnazione la pena può essere ulteriormente ridotta di un sesto e questo ovviamente presuppone ma i dati che abbiamo adesso non li citiamo se no vi ammazzo definitivamente ma i dati che abbiamo dell'ufficio GIPGUP sugli abbreviati lavora molto bene abbiamo definizioni entro l'anno e nel 90% abbiamo situazioni di condanna quindi c'è un accesso molto alto ai riti alternativi soprattutto in determinati settori perché evidentemente in determinati settori la procura lavora molto bene c'è un'unica carenza della sezione GIPGUP che non ha delle aree di specializzazione ma su questo credo che ci dovremmo arrivare allora se aumenteranno i riti alternativi se verranno chieste vedremo in che misura io su quello sono un po' scettico quelle finestre di giurisdizione a cui faceva riferimento il presidente Canzio io credo che non saranno quantitativamente molte per esempio il problema della retrodatazione dell'iscrizione ai fini della verifica dell'annualità utile per l'esercizio dell'attività investigativa oppure mi viene in mente in caso di perquisizione negativa la richiesta di controllo per verificare i presupposti della perquisizione io posso sbagliarmi ma io non credo che saranno molti questi interventi da parte del GIP sull'attività di indagine ma nelle altre attività se l'ufficio GIPGUP dovesse diventare l'ufficio centrale evidentemente ci sarà la necessità di spostare risorse dal dibattimento ma tutto questo lo vedremo solo con l'esperienza torniamo e qui chiudo alla fantastica progettazione che ci dice il legislatore sul piano della tecnologia ho fatto riferimento al processo penale telematico peraltro ritorno al problema della polizia giudiziaria la notizia di reato deve essere un atto nativo digitale in prospettiva e questo comporta una riorganizzazione e io ho di fronte degli ufficiali della guardia di finanza ma mi viene in mente la stazione dei carabinieri sperduta in qualche posto non metropolitano la necessità di organizzazione nella creazione di una notizia di reato nativa digitale nella prospettiva del processo penale telematico oppure il problema del trasferimento e della mutazione del giudice la norma dice che noi dobbiamo dovremo e ci attrezzeremo per farlo fermo restando quel problema che poi dobbiamo chiamare quando si interrompe il collegamento guardate che questo accade anche normalmente col pct che ha un po' di anni di esperienza per i giudici civili quando si riempiono le memorie dei computer reato allora noi abbiamo il dovere di videoregistrare tutta l'attività probatoria soprattutto in dibattimento perché altrimenti se c'è una mutazione del giudice non potremmo utilizzare per esempio quella prova dichiarativa questo presuppone un investimento di risorse sul piano tecnologico ed un controllo di natura manutentiva ordinaria straordinaria su quelle risorse perché se io mentre sto sentendo un test e una persona offesa vulnerabile supponendo mi si interrompe la connessione o la macchina certamente crea una forma di violenza secondaria istituzionale su quella test dotata di fragilità dovendole dire guardi torni quando il sistema di avviso al ministero mi consente di chiamare il tecnico il tecnico esce e la posso risentire a meno che non abbia un'altra aula disponibile allora tutto questo e qui vado veramente a concludere è rivoluzionario noi siamo pronti alla sfida però dobbiamo anche essere intellettualmente onesti perché ci vogliono due fattori complementari uno al quale ho già fatto riferimento che sono le risorse secondo me ad una rivisitazione nel rapporto sulla gestione dei servizi adesso ho sentito parlare di nuova riforma della giustizia credo di natura costituzionale credo che il tema sia la separazione delle carriere ed altro il presidente Cancio che è stato il primo magistrato d'Italia sa bene che le riforme hanno però bisogno di tempo per una stabilizzazione per una metabolizzazione perché altrimenti il sistema che è già fragile per quanto vi ho detto prima rischia di andare assolutamente in cortocircuito giustizia riparativa beh la giustizia riparativa così come inserita è assolutamente complementare non è interferente con la risposta sanzionatoria fra l'altro prevede la creazione di una commissione che istituisca dei centri specializzati nella giustizia riparativa e quindi è come dire è un pezzo della riforma che andrà a regime fra qualche tempo però attenzione così come è stata costruita io la trovo uno sforzo di applicarla ma in maniera complementare sussidiaria perché credo che alla fine l'unico beneficio che possa derivare sul piano processuale sia la concessione delle attenuanti generiche per l'imputato che abbia diritto a dei percorsi di giustizia riparativa o eventualmente qualora ci sia un reatto procedibile a querela di parte all'intervenuta remissione di querela da parte della vittima che abbia consentito ad accedere ai percorsi di giustizia riparativa certamente una vittima di stupro una vittima di maltrattamento o una vittima di atti persecutori non potrà mai essere mandata in riparazione con il suo autore del reato su questo credo che siamo tutti d'accordo mi fermo qui e vi ringrazio grazie grazie mille grazie davvero ora prima di passare la parola a Federico Maurizio D'Andrea per le conclusioni volevo chiedere se approfittando di questo coro di autorevolezza ci fosse qualcuno dal pubblico che ha qualche domanda qualche suggestione per i nostri relatori perché sono state dette davvero tantissime cose e molto interessanti forse dieci minuti per consentire magari anche un giro di tavolo non so se c'era qualche riflessione ulteriore che i nostri relatori avevano voglia di condividere con noi sentendo anche le suggestioni prego mi scuso io purtroppo non conosco quindi si deve presentare buonasera sono l'avvocato Marco Dallavalle del foro di Milano tornando all'inizio e soprattutto a quello che ci diceva il nostro presidente Nardo sulla questione della querela con riferimento ai furti si sta creando un grosso problema con riferimento a quelli che sono i furti un tempo aggravati e quindi procedibili d'ufficio nei supermercati nei negozi nei punti vendita in generale in cui da parte delle autorità di pubblica sicurezza si richiede ovviamente che il singolo responsabile del punto vendita il singolo direttore sia munito dei necessari poteri per proporre querela che nell'ambito di un'organizzazione aziendale di una società sono difficili da ipotizzare o comunque da costruire e si parla di procure notarili eccetera e soprattutto di un adempimenti particolarmente gravosi per molti negozi o per molte aziende ora io volevo chiedere se in quest'ottica secondo la vostra esperienza in considerazione anche del fatto che c'è un orientamento della Cassazione favorevole a riconoscere al direttore del punto vendita un autonomo potere di proporre querela in quanto una legittimata la tutela del patrimonio aziendale se nell'ottica più generale della procedibilità querela si andrà verso una semplificazione nei requisiti della querele o se invece andremo su una posizione diversa di maggiore chiusura penso anche a un discorso generale per le vittime private che normalmente fanno la denuncia ai carabinieri senza costruirla con tutti quelli che sono gli enti tipici della querela cioè in altri termini andremo verso una semplificazione nelle forme della querela o andremo verso una complicazione grazie grazie a lei grazie non so magari se ci fosse qualche altrimenti qualche altro intervento prego buongiorno sono l'avvocato cammarata io volevo soltanto sapere una cosa ovviamente un'esperienza che abbiamo già iniziato a vivere col covid e poi adesso ovviamente andremo a vivere in maniera definitiva che è quella del diciamo il diverso svolgimento del giudizio impugnazione fatto in una forma scritta è un tema che mi sta molto a cuore e lo ricollego poi a quanto ha detto il presidente Roia in maniera secondo me perfetta che è la difficoltà poi che ha l'avvocato nel rapporto col cliente e la mia domanda era questa una domanda sincera ma culturalmente a vostro parere i magistrati sono già pronti a questo tipo di cambio di mentalità cioè mi spiego molto spesso il fatto di non trattare un'udienza in maniera orale è vista come o può essere letta o c'è questo timore che venga letta come fatto di crederci meno in qualche modo e questo è un fatto che poi ti può essere rimproverato dal cliente quindi a prescindere dal fatto che magari si tratta di questione di natura giuridica che invece non hanno bisogno oppure sono già state espresse in maniera a parere come dire dell'autore dell'impugnazione Maria Corrente la paura dell'avvocato è questa cioè se non chiedo la trattazione orale magari do un messaggio di scarsa convinzione che in qualche modo viene recepito così volevo sapere se a vostro parere quindi approfitto di questo parterre se effettivamente sono come dire delle paure degli avvocati o se invece forse c'è ancora un cammino da fare a questo punto di vista grazie grazie mille qualcun altro allora lascerei magari cinque minuti a tutti i nostri grazie per in chiusura e in risposta anche alle sollecitazioni che sono arrivate prima di provare a rispondere alle sollecitazioni che ci sono state vorrei collegarmi a quanto detto da Eugenio Fusco e anche dal presidente del Tribunale di Milano perché condivido largamente una serie di riflessioni e di osservazioni che sono necessarie non possono essere pretermesse da chiunque abbia a che fare con le aule di giustizia cioè il tema delle risorse dell'organizzazione su cui si gioca poi largamente si gioca il futuro della riforma cartabia io faccio una domanda e mi chiedo l'alternativa c'è un'alternativa secondo voi una volta che si prende atto dei deficit delle criticità di questi deficit e di queste criticità non ve le enuncio sono state enunciate chiaramente risalenti nel tempo questi deficit queste criticità io ricordo da quando sono entrato in magistratura 50 anni fa sono in grado di giustificare la conservazione dello stato su quante fino a quando perché attenzione ce lo dicevano già gli antichi romani addurre l'inconveniente i pratici del diritto addurre l'inconveniente non vuol dire risolvere i problemi non conoscere gli inconvenienti è delittuoso e quindi bene fanno i capi degli uffici ad avvertire attenzione ci sono queste fragilità ci sono queste criticità e sono inconvenienti sempre ma perché io credo che la riforma cartabbia sia più ricca di luci che di e di virtù che di che di vizi e di ombre per la filosofia che vi è dietro per lo sforzo culturale che vi è dietro e che è proprio quello di un'epoca di transizione questo termine che abbiamo usato tante volte nel corso della mia vita non so quante volte abbiamo parlato di siamo in un'epoca di transizione questa parola transizione oggi però è una parola codificata a livello europeo in tutti i documenti che hanno giustificato il next generation le risorse il PNR e così via e c'è la transizione intesa come come cambiamento di mentalità come vera e propria metamorfosi cambiamento della pelle come riposizionamento ecco delle basi culturali in funzione propulsiva ecco io vedo la riforma cartabbia con una straordinaria funzione propulsiva se le persone serie sanno elencare con serietà i problemi non nascondersi dietro le criticità per dire siccome ci sono queste criticità questa cosa non si può fare non si deve fare ma può avere una funzione propulsiva straordinaria per la transizione se si affronteranno gli organismi poi decidenti a cominciare dal ministero che è responsabile appunto delle risorse portando esattamente il ministero a confrontarsi sulle sulle tecnicalità sulle problematicità sulle criticità che vengono enunciate facendo ognuno però la propria parte e vivendo la riforma con uno spirito molto pragmatico molto flessibile poco ideologico molto forte dell'esperienza che si fa faccio solo un esempio e poi ne faccio altri si è detto del mutamento del giudice voi sapete la regola è il giudice inizia un processo lo deve concludere se ha assunto le prove perché il mutamento del giudice significa che potrebbe decidere il processo un giudice che non ha assunto le prove che non ha sentito il testimone che non ha vissuto la dialettica del contraddittore dibattimentale e quindi la regola di giudizio che ci dà l'Europa che è stata recuperata sia dalla legge delle valutanzi e poi stata recuperata dal decreto delicato è che il mutamento del giudice comporta la rinnovazione dell'istruttore dibattimentale a meno che non sia stata videoregistrata quella prova dichiarativa ma porto questo esempio per dire presidente del tribunale presidente della corte d'appello e l'abbiamo fatto a Milano in tantissimi casi ha a sua disposizione delle misure organizzative ordinamentali in grado di risolvere questo problema a monte dove è risolvibile attraverso per esempio l'applicazione quante volte noi il magistrato trasferito abbiamo fatto l'applicazione o endodistrettuale se è stato trasferito dal distretto o extradistrettuale concordando col presidente della corte d'appello dell'altro distretto la permanenza dell'ufficio di provenienza per i giorni in cui doveva essere in base al calendario celebrato quel processo evitando il trauma del mutamento del giudice delle sentenze delle sezioni unite del giusta delle giuste obiezioni e contrasti da parte dell'avvocatura delle camere penali che giustamente si lamentano di una regola che non dà il senso appunto del processo giusto e quindi voglio dire anche da parte nostra vi sono spazi da parte vostra vi sono spazi per un mutamento profondo culturale che vada a incidere anche sulle misure organizzative in grado di prevenire e di poter risolvere queste problematiche solo qualche minuto per rispondere alle domande sulla querela non so io penso che il futuro ce lo dirà nella pratica ma l'esempio che le ha portato mi farebbe propendere per un'ipotesi di allargamento della titolarità della legittimazione per evitare che si possa disperdere un potere di una condizione di procedibilità solo perché il titolare semmai o è all'estero oppure chissà in quale in quale stato si trova è difficilmente raggiungibile quindi io credo che si troveranno delle regole per consentire comunque una richiesta di procedimento da parte di persone legittimate molto intrigante è la domanda che ha fatto la vocale la camerata io posso rispondere per quanto riguarda l'esperienza che ho seguito personalmente nella corte di Cassazione ero già fuori della magistratura ma l'ho seguito perché mi era stato chiesto di seguirla e c'è il contraddittorio camerale e il giudizio cartolare che ha funzionato largamente bene con soddisfazione degli avvocati soprattutto di quelli seri che sono la maggior parte e con la soddisfazione dei magistrati i quali hanno dedicato molto più tempo alle riflessioni in camera di consiglio che non alla udienza pubblica in cui una sequela di magistrati di avvocati si presenta per dire mi riporto a quello che ho scritto oppure solo perché deve dimostrare che è stato presente si prende dieci minuti e bisogna ascoltare cose già scritte ripetute quindi mi rendo conto anche qui la transizione culturale richiederà il rapporto avvocato difensore cliente è un rapporto molto complicato io non sarei capace di sostenerlo per esempio mentre voi avete dietro di voi un'esperienza larga che ti può aiutare però ecco mi piace sottolineare un punto che la riforma partire sia dalla dalle galattanzi sia dall'apposita commissione che ho preso sulle impugnazioni ha ritenuto assolutamente non proponibile la richiesta che pure c'era stata di prevedere degli aggettivi accanto alla parola richiesta del difensore richiesta motivata richiesta articolata richiesta che spiegasse le ragioni abbiamo detto che questo era una sfida una sfida di professionalità una sfida di eticità di ontologia che non poteva essere circondata da paroline il diritto è un diritto protestativo quello di chiedere la discussione però c'è un elemento che deve far riflettere la stessa corte di appello corte di cassazione può d'ufficio pretendere alla presenza che il contraddittorio da cartolare si trasformi in contraddittorio orale che sia l'indienza di trattazione quando ritiene che vi siano questioni rilevanti rilevante non vuol dire rilevante solo a punto di vista giuridico ma anche rilevante dal punto di vista fattuale dal punto di vista delle prove dal punto di vista dei vizi di motivazione quindi vorrei che questo termine rilevanza che proprio affidato al giudice se ce la fate fosse mutuato dal difensore che lo valori il difensore se è rilevante o meno presentarsi davanti al giudice e sottoporre al giudice quella questione o quelle questioni rilevanti forse è un problema di soft law forse è un problema di protocolli di udienza so che alcune corti d'appello per esempio Venezia mi risulta che hanno previsto degli incontri tra avvocati e magistrati per disciplinare meglio il contraddittorio cartolare e il corte d'appello è una sfida ma come tutte le sfide almeno per quanto mi riguarda vanno raccolte non raccogliere sarebbe veramente il suicidio di una società che non crede più in quella che è la rileva loro stato di diritto e vi assicuro che non è un momento questo per scherzare con la democrazia perché lo stiamo vedendo in quanti altri paesi la democrazia viene messa in forza grazie dottor Fusco grazie sulle domande ovviamente ha risposto il presidente non dico assolutamente non sono totalmente d'accordo ma raccolgo allora un'altra sfida quella del metro di giudizio che dovranno seguire i giudici delle indagini preliminari nell'udienza preliminare e il giudice che si occuperà dell'udienza predibattimentale è fondamentale che non si riveli questa una frode dell'etichetta d'altra parte l'elevato numero non voglio giustificarlo di assoluzioni nel giudizio monocratico ha plurime ragioni diciamo è multifattoriale perché sconta proprio molte volte la difficoltà di ottenere un provvedimento favorevole dal giudice delle indagini preliminari una archiviazione decreto di archiviazione in presenza di un'opposizione della persona protesa allora quando ci si trova in situazioni del genere spesso la scelta è quella di formulare l'imputazione e quindi mandare avanti il giudice non posso parlare per tutti parlo per me ma parlo con 30 anni anche io di esperienza oramai tante volte ho fatto così perché sapevo già quale sarebbe stata la risposta la risposta dal giudice e allora qui è molto molto importante che vi sia un raccordo tra il giudice di udienza preliminare e il giudice o meglio tra l'ufficio GIP che si occupa anche della rivista di archiviazione e chi si occupa invece nella fase predibattimentale d'altra parte io voglio che nessuno creda che i pubblici ministeri preferiscano mandare avanti mandare a giudizio delle persone sulle quali la prognosi può essere diciamo così border io personalmente almeno qui parlo solo a titolo personale su un archiviatore un negoziatore e un archiviatore quindi favorisco moltissimo i patteggiamenti e tendenzialmente forzo le archiviazioni però vi sono anche casi in cui come ripeto come ripeto la scelta è quasi obbligata non soltanto di opportunità quasi obbligata e allora qui sarà davvero l'esperienza il futuro a dirci come questa riforma potrà funzionare perché questo è uno snodo centrale cioè d'altra parte io mi rendo anche conto che l'archiviazione ci sono i problemi di tabellare anche a me è capitato di stare in consiglio giudiziario perché anche lì sarebbe il caso magari di convogliare se fosse possibile una serie di procedimenti nei quali viene richiesta l'archiviazione soprattutto su certi giudici un po' nei limiti del consentito si fa sono il presidente e il presidente aggiunto che magari si occupano dei casi standardizzabili però anche su quelli ogni tanto capita di vedere ma ci mancherebbe poi l'autonomia e l'indipendenza del giudice sta anche in questo delle decisioni che sono un po' eccentriche rispetto a quelle più ortodosse quindi io è tardi non voglio toccare altri argomenti credo che questo sia un punto fondamentale sia un punto fondamentale richiesta di archiviazione anche perché stiamo passando a delle formule lasciatemelo dire che per condannare ci vuole il film al di là del ragionevole dubbio la ragionevole convinzione cioè quindi stiamo parlando veramente di situazioni in cui la presunzione di innocenza che giustamente è stata rafforzata non soltanto dalla cartabia ma anche da altre norme che sono venute diciamo a corollario mette chi esercita l'azione penale nelle condizioni devi farsi davvero due conti si va a giudizio si va a dibattimento solo se ci sono delle prove schiaccianti se non ci sono le prove schiaccianti è altro che sviluppo dibattimentale come prima diceva Fabio Roia no ricordo che all'inizio all'inizio del del processo io ho studiato il vecchio processo venale però all'inizio mi è capitato di andare ad un convegno e qui mi piace ricordare questo episodio tanti anni fa il professore Enzo Busco commentando il nuovo codice di processura penale da penalista perché era un sostanzialista non un processualista disse non so ma questo processo a me sembra un po' strano un po' come un treno bellissimo moderno nuovo che trasporta tutto dai passeggeri di prima classe anche agli ortaggi ma senza distinzione poi in realtà binario sono intervenute varie modifiche però questo è uno dei temi che io anche nella riforma cartabbia avrei voluto vedere un po' più affrontato se noi qui ci troviamo adesso a dover comunque sempre con la distinzione dei reati in materia diciamo così di mafia e quelli che poi si sono aggiunti e gli altri ma invece qui abbiamo proprio una tipologia di reati che sono molto diversificati tra loro e meriterebbero probabilmente una trattazione differenziata ho voluto ricordare questo vecchio perché questo vecchio episodio praticamente all'entrata in vigore del di quello che ancora chiamiamo nuovo codice di procedura penale ma che evidentemente non lo è più e da anni per dire che la riforma cartabbia comunque troverà applicazione e innegabilmente è un enorme passo avanti ne condivido la filosofia assolutamente c'è solo un timore che io ho avvertito nei corridoi della procura e non soltanto qui a Milano questa l'efficientismo questa ricerca molto accentuata dell'efficientismo si scontra un po' con le esigenze dell'indagine le esigenze delle grandi indagini e io quando sono venuto a Milano sono venuto sull'onda di indagini che si sono fatte alla procura di Milano che sono state nella materia di cui mi sono occupato non mi sono mai occupato di fenomeni mafiosi ma che sono state tra le più belle qui c'è Umberto io quando penso all'indagine sulla banca privata per me è un'indagine di una è la più straordinaria ma non lo dico perché c'è lui e ce ne sono state molte altre molte altre io ho avuto anche la fortuna di trovarmi in alcune di queste indagini in un sistema che a me pare un po' troppo orientato all'efficientismo temo che queste indagini non ci saranno più e anche questo sarebbe veramente un grave torto allo Stato di diritto perché quando in altri paesi si cerca di disfarsi da ultimo in Israele abbiamo sentito alcune notizie in questi giorni si cerca di mettere un po' in un angolo la Corte Suprema in quel paese e beh perché le indagini che si temono sono sempre quelle più delicate quelle che richiedono più tempo più coraggio più coraggio spero che si facciano ancora che si faranno ancora Veramente soltanto una riflessione assolutamente la riforma va accolta va condivisa non va boicottata il mio era soltanto una riflessione sulla necessità di una modernità nell'approntamento di risorse faccio degli esempi banali e mi scuso anche allora se a Milano il costo della vita è 10 è chiaro che per trattenere del personale amministrativo bisognerà adeguare gli stipendi o creare degli incentivi per trattenere dove il costo della vita è 10 allora questo presuppone credo che il termine sia orrendo delle gabbie salariali o comunque dei concorsi di natura regionale cioè una sfida di modernità anche da questo punto di vista noi non possiamo pretendere un efficientismo doveroso attenzione perché poi la giurisdizione è sempre riflessione quindi non si può avere un approccio quantitativo che non sia qualitativo riflessivo perché poi andiamo su una deriva molto pericolosa già c'è questa tendenza io vedo in alcuni magistrati soprattutto più giovani a stare molto attenti al dato alla statistica al carico esigibile più che alla vicenda umana quindi c'è già questa deriva che va un pochino frenata ed educata però se di fronte ad una sfida di questo tipo non accompagniamo le risorse è chiaro che ci vuole un investimento complessivo di modernità non solo sull'impianto ecco questo ci tenevo a dire grazie ancora grazie grazie dottor Roia vicepresidente centro studi Borgogna Federico Maurizio D'Andrea per la conclusione allora intanto c'è spazio sì 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 no no chiudo chiudo no 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 voglio dire dopo l'autorevolezza dei relatori mi impone mi imporrebbe solo il silenzio nella realtà ma questo è un ciclo di studi che noi abbiamo voluto tra i primissimi come centro studi Borgogna portare avanti perché la riforma cartabia è stato detto in tutti in tutti i modi è una è una riforma di sistema è una riforma importante una riforma per la quale bisogna studiare e studiare tanto e studiare è fatica studiare è faticoso e si preferisce spesso e volentieri come dire ricorrere a delle scorciatoie affrontare la riforma stessa non con quella attenzione che tutti gli operatori di giustizia dovrebbero avere tutti tutti qui noi abbiamo impostato questo ciclo questo ciclo di studi in maniera con una logica partendo proprio da quelli che sono i principi ispiratori della riforma cartabia e i temi organizzativi poi entreremo nel processo penale telematico poi entreremo nella novità in tema di indagini preliminari e di udienza preliminare nei riti ordinari e nei riti speciali nei impugnazioni nel nuovo sistema sanzionatorio penale cioè abbiamo voluto proprio articolare un percorso che abbracci i 99 articoli della riforma nella loro completezza per quel che riguarda davvero l'apporto che culturalmente noi come centro studi possiamo dare e a chi possiamo dare questo apposto a tutti coloro i quali bazzicano giustizia noi qui abbiamo al tavolo tra le espressioni massime della magistratura primo presidente merito dottor Canzio è veramente un personaggio che voglio dire che va al di sopra al di sopra di tutto io ho il privilegio di conoscerlo da tempo è una fonte di sapienza e di scienza davvero davvero straordinario ho il privilegio di aver conosciuto il dottor Fusco nel quotidiano è un pubblico ministero come dico spesso che andrebbe molto custodito molto no molto molto riprodotto e il presidente Roia il presidente Roia mi vincola anche un straordinario sentimento di amicizia che parte da una stima davvero davvero totale e incredibile su Adriana poi dirò una cosa alla fine io credo che questo sforzo di studio debba coinvolgere tutti gli operatori di giustizia e Finicio Nardo nel quale pure mi onoro di essere amico credo che dovrebbe impattare direttamente anche con la nuova figura dell'avvocato e perché no e perché no dovrebbe impattare con una nuova modalità operativa della polizia giudiziaria io qui ho il piacere di e saluto con molta cordialità i miei tra virgolette ex colleghi della della guardia di finanza perché il rapporto che la che la cartabia dal mio punto di vista ha voluto enucleare in maniera dirompente è proprio quello di una di una rivoluzione culturale che necessita ovviamente di tempi per essere assimilata per essere assorbita ripeto per essere studiata a monte perché se non si studia è difficile di assorbire poi la riforma ma questo involge un po' tutti gli operatori tutti gli operatori di giustizia è ovvio che i giornali oggi come oggi parlano molto della cosiddetta querela ma lasciatemi dire la querela è veramente una piccola parte della della riforma mi sembrerebbe addirittura svilente parlare della riforma riducendola al termine querela sì querela no per chi viene dal mondo fiscale come me io prometto mi sono ripromesso lasciato alla guardia di finanza di non parlare mai più di fisco nella mia vita perché non ne voglio più parlare è troppo complessa la materia voglio fare altro però voglio dire è ovvio che si poteva pensare ad una amnistia per poter in qualche modo intervenire chi viene dal mondo fiscale è abituato a ragionare con condoni in continuazione con rattamazione delle cartelle ogni volta facciamo dei provvedimenti che lasciatemi dire sviliscono anche l'attività dell'operatore del consulente del commercialista così come possono sminuire l'attività dell'avvocato invece secondo me il tema della querela ma poi dico due cose e su altro secondo me invece dovrebbe esaltare la figura dell'avvocato perché per esempio una riforma una mentalità che noi non riusciamo che non riusciamo noi a fare nostra è quella delle indagini difensive dell'avvocato noi non riusciamo secondo me non abbiamo ancora questa mentalità non ce l'abbiamo non ce la facciamo abbiamo ancora l'avvocato che non è entrato in questo in questo in questa ottica e invece secondo me a mio sommessissimo avviso proprio la esaltazione della querela cioè di questa volontà di continuare a manifestare questa volontà di giustizia o di punizione nei confronti di chi si ritiene reo e dovrebbe secondo me incrementare la figura dell'avvocato perché non può presentarsi non può secondo me limitarsi a presentare una querela pur che sia ma la dovrebbe dicevamo prima con il presidente Nardo vestire di più quindi bisogna bisogna che la querela laddove è presentata sia corroborata da dati di fatto ben più importanti di quelli a cui oggi viceversa siamo abituati e la stessa polizia giudiziaria dovrà rivedere molto della sua della sua attività bisognerà secondo me mettere da parte un po' sia per la polizia giudiziaria sia anche per probabilmente per il pubblico ministero quello di dire si valuterà in un secondo momento quello che accadrà io intanto scrivo io intanto scrivo poi ci sarà qualcuno che deciderà se andare avanti o no no la riforma cartabia immaginando questo giudizio tra virgolette prognostico in qualche modo impone un salto culturale un salto culturale importante cioè il massimario della Cassazione ha fatto una relazione meravigliosa sulla riforma cartabia edita il 5 gennaio 2023 è veramente è veramente bella io invito chiunque sia interessato a leggere questa relazione del massimario della Cassazione perché davvero tocca a tutti tocca a tutti tutti i punti credo anche che noi non siamo dobbiamo passare da un periodo in cui abbiamo dato corso ad una lasciatemi dire pan penalizzazione esagerata ad un periodo in cui speriamo di non eccedere dall'altra dall'altra parte ma non si può pan penalizzare tutta tutta la vita da un punto di vista aziendale da un punto di vista come sono io un film manager i problemi bisogna affrontarli ma non bisogna non bisogna vederli soltanto all'esterno cioè secondo me bisogna anche imparare a fare un'autocritica da parte da parte di ciascuno per esempio da un punto di vista aziendale a me sembrerebbe molto buffo che ci sia un signore che va via il primo maggio del 2022 e la carica rimane vacante perfino per 6-7 mesi al 2023 mi sembra come dire da un punto di vista aziendale mi sembra mi sembra che qualcosa che qualcosa non giri io credo che questo sia un tema che vada affrontato anche all'interno per come dire probabilmente intervenire su quelli che sono i gangli che burocratizzando eccessivamente l'attività alla fine della fiera costituiscono un ostacolo un'assenza di un presidente di tribunale che si trascina per quasi un anno è un'assenza sulla quale bisogna fare una riflessione è certo che ci saranno le procedure certo che bisogna consentire tutto ma non può esserci cioè in un'azienda per carità di Dio se va via se va via l'amministratore del delegato ci sono delle tavole di giustezione per cui si fa entra un nuovo amministratore delegato io dico io dico che questo salto culturale se non riusciamo a farlo perdiamo una grande occasione quindi davvero mi è piaciuto tantissimo questo questo convegno perché ha messo in luce pensieri diversi ha messo in luce sensibilità diverse ma ha messo in luce soprattutto il fatto che quando le persone sono di questo livello pur partendo da direzioni diverse si centra alla fine della fiera lo stesso obiettivo che è l'obiettivo di tutelare più di ogni altra cosa lo stato di diritto e per tutelare lo stato di diritto noi abbiamo la necessità continua di diffondere la cultura perché soltanto la cultura a mio sommesso avviso permette di vivere in uno stato di diritto ma permette soprattutto di vivere in uno stato libero e la libertà di questo stato spesso e volentieri per tante occasioni per tanti contesti ci è stato garantito proprio dal lavoro della magistratura alla quale a mio sommesso avviso dobbiamo porre sempre i nostri più sentiti ringraziamenti per tutto quello che fanno e che faranno grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti